il baby killer ti hanno letto sul gruppo le gomme le D212 sento puzza di olio bruciato e tu vola stare presenta volevo fare il buono sento puzza di olio bruciato siamo sicuri che si può essere Presidente ma è una giapponese questo è sicuro di quello che dice si impegna ragazzo vedete che si impegna vabbè ci ha picchi a mano un pari d'anni con noi e la cazzo il baby killer non è 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 è non 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 è Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Sì.